Sabato 16 settembre torna la Notte Rosa Cascina, la Notte Rosa ha la sua seconda edizione, una seconda edizione che vedrà ben sette piazze del centro di Cascina, riempite di spettacoli e quant'altro. Sì, è un'edizione che si presenta cresciuta rispetto a quella dell'anno scorso, ci saranno vari punti musicali di intrattenimento a partire dalle sette per arrivare poi fino a mezzanotte, si coinvolge il tessuto commerciale del corso, si coinvolge una parte del mondo dell'associazionismo per una serata di fine estate. Venerdì iniziano le scuole, sabato è l'ultimo vero fine settimana d'estate e accompagniamo la chiusura della stagione con questo evento. Speriamo che ci sia molta gente e che sia una cosa che continuerà anche nei prossimi anni, è una cosa per me come l'anno scorso è stata molto apprezzata. Sabato 16 settembre, sette piazze, sette set che accoglieranno tante attività, allora che cosa è per Cascina questa Notte Rosa? La Notte Rosa è sicuramente uno degli eventi di punta, della rassegna di eventi che portiamo avanti ormai da tempo proprio allo scopo di valorizzare il centro storico, ma insieme alla valorizzazione del centro storico e quindi delle attività commerciali e anche le realtà associative del nostro territorio. Quest'anno appunto come dicevi sette set nel senso che abbiamo previsto più punti spettacolo, abbiamo previsto anche un prolungamento della festa sul viale Comasco Comaschi dove ci sarà una serie di street food perché l'anno scorso non riuscimmo a sopperire a tutte le richieste che ci furono date alla massiccia presenza di pubblico e quindi anche un coinvolgimento delle attività che sono propriamente fuori dal centro storico. Direi un bel successo in linea con la nostra programmazione di valorizzazione e di recupero del centro storico. Cosa risponde l'assessora a chi dice che a Cascina non c'è mai niente? Che preferisce i fatti alle sterili polemiche? Noi stiamo lavorando, stiamo lavorando tanto. Chi dice che non c'è niente evidentemente non c'è a Cascina, abita un'altra città. Chi dice che non c'è un'altra città.